Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. In questo video vedremo perché il dente del giudizio fa male. Le informazioni di questo video hanno uno scopo puramente divulgativo, per qualsiasi dubbio rivolgiti sempre dal tuo medico. Diverse possono essere le cause di odontalgia, in questo caso specifico di dolore a carico del dente del giudizio. Vediamole assieme. Una prima causa è appunto la cosiddetta pericoronarite, cioè si ha un'infiammazione della gengiva che circonda il dente del giudizio che in fase di eruzione, ma in questo caso il dente del giudizio ha una difficoltosa eruzione, perciò si parla di disodontiasi del dente del giudizio. Essendoci questa difficoltosa eruzione si ha un'infiammazione della gengiva stessa e allo stesso tempo si accumulano più facilmente residui di cibo che vanno appunto ad infiammare la zona e quindi rende il tutto molto doloroso anche alla pressione e alla masticazione. Un'altra causa di dolore a carico del dente del giudizio può essere se il dente del giudizio è erotto, è uscito all'interno della cavità orale, però si è cariato. Spesso i denti del giudizio non escono dritti ma escono storti. Se escono storti sono anche più difficili da detergere, da pulire e quindi è più facile che si vadano a cariare, anche perché purtroppo molto spesso li utilizziamo sempre meno ai fini della masticazione e quindi c'è anche meno detersione data dalla saliva in quella zona e dallo sfregamento del cibo. E quindi chiaramente sono dei denti che abbastanza facilmente, soprattutto se erompono storti, si possono cariare e la carie può dare dolore, soprattutto se poi la carie, diciamo gradualmente col tempo, raggiunge anche poi la polpa dando una pulpite. In quel caso infatti ci possono essere degli ascessi. Il dente del giudizio può anche far male se ci sono dei problemi gengivali o parodontali, come per esempio delle tasche parodontali o dei quadri di gengivite. Se poi il dente del giudizio sbatte prima rispetto agli altri denti, quando si giudono i denti, quindi va in precontatto e interferenza si dice, va in trauma occlusale e anche questo può chiaramente causare dolore a carico dei denti del giudizio. Bene ragazzi io con questo video è terminato, se il video ti è piaciuto lascia un mi piace ed iscriviti al canale e condividi il video con altri utenti per far crescere sempre di più questa community e per renderla sempre più utile per tutti. Ti ricordo chiaramente che puoi anche abbonarti se vuoi al mio canale per poter accedere a dei contenuti esclusivi. Ti ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao